La linea vetro si ferma ma non ci saranno ripercussioni sull'occupazione, intanto l'azienda su sollecitazione delle organizzazioni sindacali dopo un incontro in questi giorni si è detta comunque disponibile a valutare altre soluzioni. E' comunque ferma la posizione della ferrarelle sullo stop della linea del vetro nello stabilimento di Boario Terme, una posizione contestata dalle organizzazioni sindacali Camune ma anche dalle istituzioni locali, dagli albergatori e dai ristoratori che oggi mettono sulle tavole le eleganti bottiglie in vetro dell'acqua Boario e che non potranno sostituirle con quelle in plastica. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, questo mercoledì si sono dati appuntamento all'hotel Rizzi di Boario Terme, la direzione aziendale con la presenza dell'associazione industriale Bresciana, le RSEU e le organizzazioni sindacali territoriali. In questa sede la ferrarelle ha ribadito la scelta annunciata ma ha garantito che non ci saranno ripercussioni sull'occupazione, però entro la fine di agosto la linea vetro a Boario sarà smantellata. La linea rappresenta oggi il 5% della produzione totale dello stabilimento contro il 95% del PET che nei prossimi anni, secondo la direzione, potrà avere un ulteriore incremento. Nella linea PET oggi vengono prodotti marchi importanti e conosciuti a livello nazionale ed internazionale come la Vita Snella, l'Infe, il Tè e l'Essenziale. Smantellare la linea in vetro permetterà all'azienda di risolvere anche problemi logistici all'interno degli spazi dell'imbottigliamento dove in questo momento mancano spazi per le linee che potrebbero dar vita a nuovi investimenti. Le organizzazioni sindacali hanno preso atto del piano di previsione illustrato dall'azienda dell'impegno ad investire a Boario, ma hanno comunque insistito perché si possono attivare tutte le interlocuzioni necessarie con le istituzioni per creare un progetto territoriale volto alla salvaguardia della produzione del vetro a Boario, al fine di non far venire meno sulle tavole un prodotto storico che caratterizza il territorio, in modo particolare in Valle Camonica ma anche ovviamente in altre zone d'Italia dove ristoranti ed alberghi scelgono di mettere in tavola l'acqua camuna. L'azienda, pur affermando che dal punto di vista industriale e del business la scelta presa va perseguita appena un danno per l'azienda stessa, si è comunque detta disponibile a valutare eventuali progetti concreti che si dovessero sviluppare a livello istituzionale. Per concludere, le RSU e le organizzazioni sindacali sollecitano quindi le istituzioni del territorio a convocare presto un tavolo con l'azienda e le associazioni di categoria per affrontare il tema e cercare di risolvere i problemi.